Buongiorno, deve fare un prelievo? No, oggi no, c'è la pressione bassa. Piuttosto giochiamo al consulente personale e alla cliente esigente. Dai, fammi un bel check-up finanziario. Perché no, con un conto multi-benefit di San Paoloini. Sì, coprimi di benefit, fammi un pigemino di carte di credito, dammi le operazioni limitate. E il deposito amministrato gratuito alla banca? Sì, mi butterete come la trota. E quella chi è? È una cliente. Ma fai così con tutte? Che porgello delle piume di cristallo! È facile innamorarsi di San Paoloini. Ti amo, bancario. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.